Si chiama Effettiva, la soluzione che dà efficienza ai consumi di energia della tua impresa. Con un'analisi energetica ad hoc, il tuo consulente Repower individua gli impianti a cui applicare strumenti di misura dell'energia, proprio dove un intervento di efficienza energetica può produrre i migliori risultati. In piena autonomia, puoi così monitorare i consumi di energia della tua azienda e capire come il consumo di elettricità concorre al prezzo dei tuoi prodotti. Ma non finisce qui. Con Effettiva, Repower ti offre anche un'analisi puntuale e accurata dei dati raccolti, con indicazioni pratiche mirate sulle abitudini di consumo che si traducono da subito in opportunità di risparmio per la tua attività. E grazie a un monitoraggio continuo dei consumi, puoi mantenere nel tempo il livello di efficienza desiderato, coinvolgendo tutti i reparti aziendali in una scelta virtuosa a cui i clienti sono sempre più sensibili. Scelta che ti fa anche risparmiare. Perché l'energia più economica è quella che non si spreca. Repower. L'energia che ti serve. Grazie a tutti. Grazie a tutti.